Musica Le elezioni del prossimo 4 marzo sembrano destinate ad avere un impatto assai pesante sul Consiglio regionale e giunta. Per quel che riguarda l'esecutivo, la candidatura blindata del Vicepresidente Viscomi provocherà le sue immediate dimissioni. Per la gioia del governatore Oliverio, che ha trovato il modo più elegante per sbarazzarsi del suo mal sopportato Vice. Le dimissioni di Viscomi, che seguono a quelle della Barbalace della scorsa estate e alla recente defenestrazione della Roccisano, aprono le porte al rimpasso di giunta, ormai imminente, che Oliverio potrà affrontare con le mani libere dopo aver puntellato la propria corrente dentro il partito, ottenendo la candidatura blindata per Enza Bruno Bossio e la conferma di censore all'uninominale di Vibo. Per quanto riguarda il Consiglio, invece, per il centrosinistra sarà candidato e solo Tonino Scalzo, a Corigliano per il Senato, che se eletto lascerebbe il posto a Francesco Denisi, più articolata la situazione dell'opposizione, che rischia di uscire rivoluzionata dopo le elezioni. L'eventuale vittoria di Tallini a Catanzaro lascerebbe il posto al nuovo ingresso di Magno in Consiglio, mentre un'affermazione di Cannizzara Reggio spalancherebbe le porte di Palazzo Campanella a Giuseppe Pedà. L'elezione di Vandaferro, invece, farà entrare in Consiglio Claudio Parente, perché il primo dei sostituti, Giuseppe Mangialavori, andrà al Senato come capolista. Paradosso a Cosenza, dove l'elezione di Orso Marzo in Fratelli d'Italia lascerebbe spazio a Giacomo Mancini, che nel frattempo è candidato alle politiche con il PD. In caso di successo per entrambi, il ripescato sarebbe più a petta. Riccardo Tripepi per la Cineus 24. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. E di cose inimmaginabili, in effetti, se ne vedono parecchie in tempo di elezioni. In Calabria il caso più curioso è forse quello di Giacomo Mancini. Nato socialista come il nonno, lo storico ex sindaco di Cosenza, Mancini Junior alle ultime elezioni regionali ha corso sotto le bandiere di Forza Italia, risultando il primo dei non eletti dopo Fausto Orso Marzo. Ora, a caso vuole, che anche Orso Marzo sia candidato alle politiche con Fratelli d'Italia. Dunque, se a Mancini dovesse andare male la scommessa con il PD, potrebbe comunque ritrovarsi in Consiglio regionale ad occupare lo scranno ancora tiepido, lasciato libero dall'ex compagno di partito. Insomma, da destra a sinistra, per poi tornare ancora a destra. Tra le cose che voi umani non potreste immaginarvi, c'è da annoverare anche il cortocircuito tra gossip e politica innescato da Sara Manfuso, ex modella ed ex compagna di Alfredo Dottorre, con il quale ha avuto una bambina. Ebbene, la bella e renziana Sara ha dichiarato di aver rinunciato alla candidatura con il PD nel collegio Lazio II per non doversi confrontare proprio con Dottorre, ex commissario del PD calabrese, che oggi corre per liberi uguali. Non si contano poi i delusi, anzi i delusissimi, per la mancata candidatura. Il caso più singolare è quello di Peppi Alonge, giovane e vulcanico militante PD di Cosenza, divenuto molto popolare recentemente perché finito nel mirino di striscia alla notizia per una sua buffa espressione ad un incontro politico con Renzi. Il discorso di Renzi è chiarissimo, basta guardare l'espressione di questo ragazzo. Alonge ci credeva davvero, ho fatto l'impossibile, garantisce afflitto ai suoi amici di Facebook, consapevole che questa volta neppure un tapiro ci sarà a consolarlo. Enrico De Girolamo per la CNews 24 In vita Becky Moses era stata doppiamente respinta dalla burocrazia italiana prima di trovare la morte sabato notte nella baraccopoli di San Ferdinando. Negato l'asilo politico dopo due anni nello Sprar di Riace, la 26enne nigeriana prima di morire tra le fiamme aveva cercato 300 metri più in là della capanna dove dormiva un posto più umano. È stata presentata qui, ha chiesto un posto nella nuova tendopoli che era vota, hanno 180 posti voti e nessuno ha dato una risposta. E anche per questa doppia porta chiusa che i suoi amici, al di là delle etnie, nel corteo partito dalla baraccopoli hanno aggiunto questa richiesta forte. A tre giorni dal rogo mortale la mobilitazione voluta dal sindacato di base ha denunciato i ritardi che le istituzioni italiane riconoscono. Noi chiediamo l'inserimento abitativi, il trasporto per questi lavoratori stagionali. A questa nuova prova di democrazia degli africani e per gli africani si sono visti anche il sindaco Michele Conia e Nuccio Barillà di Legambiente, oltre ai mediatori di culturali di Medu. Il corteo ha tagliato l'ex aereo portuale dei miracoli puntando, vigilato da un cortone di forze impeccabile nella mediazione, verso il municipio di San Ferdinando. Una rete dal basso che forse ora nel nome di Bechi può nascere. Noi ne condividiamo la piattaforma e soprattutto ritenendoci partecipi di questo territorio perché riteniamo di avere anche dei buoni suggerimenti da dare. Agostino Pantano per la Cineus 24 Questa è un'emergenza, noi interveniamo a protezione civile in emergenza, poi alla sistemazione definitiva di queste persone ci devono pensare altri soggetti, altri enti. Io credo che questa stentostruttura serve per altre emergenze, tipo terremoti o altre emergenze che si possono avere in futuro, per cui non più di due settimane, assolutamente, non più di due settimane. Ne ho parlato anche col prefetto di Bari, questa zona qui deve essere dismessa e penso che sarà individuata un'altra area nel comune di Gioia Tauro. Un senso di sconforto che ormai ha raggiunto l'apice. Aspettiamo solo che l'ente approvi i due documenti contabili e si metta in carreggiata. Una situazione incresciosa quella che stanno attraversando i circa 180 dipendenti della provincia di Crotone che non hanno percepito le mensilità di dicembre 2017, la tredicesima e ora stanno maturando anche quella di gennaio 2018. In tutto questo l'ente intermedio naviga spedito senza una rotta, non potendo erogare i servizi richiesti dalla comunità. Basti solo pensare che i dipendenti stessi hanno dovuto acquistare le risma di carte per poter stampare i vari documenti. È un sentimento di malumore quello che si avverte nei corridoi di palazzo. All'interno del palazzo comunitario l'umore è a terra perché molti servizi che dovrebbero essere fatti naturalmente per carenza di fondi, per carenze strutturali non vengono fatti. Però purtroppo dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti anche perché abbiamo bisogno di dare risposte sia sul territorio che anche alle nostre famiglie, perché le nostre famiglie sono affamate. Quando si risiederà il tavolo per discutere e sbloccare la situazione? C'è già una data, un periodo? In questione di giorni. Giuseppe Laratta per la Cineus 24. Oggi è la prima giornata di sciopero dei trasporti locali catanzarese per mettere in evidenza la rappresentatività dell'USB che è non riconosciuta da questa amministrazione. Dopodiché sul piano, sul tavolo della discussione abbiamo una serie di problemi che non sono stati mai affrontati. A partire dal contratto di secondo livello dove vengono distribuiti soldi allo Stato sociale e non ai lavoratori, alla questione di promozioni facili che avvengono in questa azienda, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli stessi operatori che sono soggetti a lunghi viaggi all'interno della città, 6 ore e 40 di viaggio, ma in particolar modo un piano differente dai trasporti in questa città. Lavoriamo tutti i giorni in condizioni di scarsissima qualità da quanto riguarda la sicurezza. guidiamo con degli autobus veramente fatiscenti, quindi mettiamo a rischio non solo il conducente ma anche l'utenza. Rossella Galati per la CNews 24. Non ci lascia proprio niente, mai, non possiamo più coltivare niente, ormai ci siamo rassegnati. Se non si prende provvedimenti, sei in questi termini qua, non dobbiamo chiudere. Non ce la fanno più gli agricoltori a fronteggiare i danni che i famelici branchi di cinghiali causano a campi e coltivazioni. Siamo a Maierato, nel Vibonese, in un comprensorio agricolo già fortemente provato dalla frana che otto anni fa ha riscritto la geografia dei luoghi, quella dei cinghiali è una nuova calamità che si abbatte con la violenza e la tenacia di una piaga biblica. Popolazione vorace che è cresciuta esponenzialmente a riparo dell'area protetta dell'Angitola e che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto, tanto che i coltivatori di cinque comuni hanno unito gli sforzi in un comitato per la difesa della dignità dell'agricoltura, chiedendo risposte ed annunciando diffide. Noi temiamo molto gli allevamenti. Qualora si verificano infezioni, danni sugli allevamenti, noi ci rifaremo sulla regione, sugli enti competenti. Danni dunque, ma anche rischi per l'incolumità delle persone e per la salute pubblica, visto il preoccupante diffondersi della tubercolosi bovina nella specie. Ci mettiamo a disposizione in maniera concertativa con l'autorità pubblica. Piazziamo delle gabbie nei territori agricoli. Una volta catturati questi animali, quelli che sono contaminati dal batterio della tubercolosi dovranno essere chiaramente abbattuti. Quelli che sono sani, noi li destiniamo all'allevamento biologico, ad aziende faunistico-venatorie e quindi vogliamo trasformare in questa maniera la questione da problema a risorsa per il territorio. A sostegno di queste proposte, noi adotteremo delle azioni di lotta anticlamorose nei prossimi giorni. Stefano Vandarano per la CNews24 Si tiene praticamente da quasi sei secoli, da 600 anni. È la prima volta in assoluto che accade una situazione del genere che a me sembra l'assurdo. Ci sono agitazione e tensione tra i commercianti del Lametino. La triade commissariale che gestisce il comune di Lamezza Terme dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, subito dopo la chiusura al pubblico di teatro e di impianti sportivi, ha annunciato che la storica fiera di San Viaggio non si terrà perché non ci sarebbero le condizioni per rispettare quanto richiede la circolare Gabrielli dopo i fatti di Torino in termini di sicurezza. È la prima volta che succede una cosa del genere e purtroppo noi siamo penalizzati perché è il nostro primo lavoro che facciamo e noi non sappiamo come riuscire a sbloccare la situazione. Oggi il vice prefetto Maria Grazia Colosimo ha incontrato due diverse delegazioni di cittadini e politici. I colloqui si sono prolungati per un paio d'ore fino al lancio di un salvagente da parte della Colosimo che ha invitato a presentare un progetto che contenga in sé anche le condizioni per rispondere a quanto richiesto dalla circolare. Se il progetto non dovesse essere accolto il comitato sul tema che si costituirà dopo gli incontri di oggi chiederà un'ordinanza straordinaria oppure scenderà nuovamente in piazza. Tiziana Bagnato per la CNews24. Cambia pelle il servizio pubblico offerto a Cosenza dall'Amaco con una serie di corsi aggiuntive affiancate ai tradizionali collegamenti. Da qualche tempo circola nelle strade cittadine un pulmino di colore bianco munito di defibrillatore il cui percorso è dedicato alle più importanti strutture diagnostiche ed ospedaliere del capologo Bruzio. Tra le fermate principali i presidi dell'Annunziata e del Mariano Santo l'IRCA, la Casa di Cura Sacro Cuore le cliniche Villa Hortensi e Madonnina. Un analogo servizio con prenotazione è svolto anche verso l'ospedale di Paola dove numerosi residenti dell'area urbana Cosentina si recano per sottoporsi a dialisi o a cure chemioterapiche ma le novità non finiscono qui. Abbiamo pensato di implementare nuovi servizi il primo è stato l'allargamento del servizio al volo lo storico servizio è chiamata che collega l'area urbana di Cosenza con l'aeroporto di Lamezia Terme mettendo in campo anche un collegamento con la stazione di Paola e dopo la fortunata esperienza della sera di Capodanno in cui abbiamo portato centinaia di persone in giro per tutta la città farlo funzionare anche per il weekend il venerdì sera e il sabato sera dalle 8 alle 2 di notte per chiunque voglia uscire e divertirsi in sicurezza e in tranquillità senza dover prendere la macchina. Sul sito www.amacospa.it tutte le informazioni e i numeri da contattare per le prenotazioni. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Una raccolta firme per presentare un esposto alla Procura della Repubblica su una falda acquifera presente nella ex zona industriale di Crotone che conterrebbe sostanze cancerogene l'ha proposta all'associazione La Collina dei Veleni che ha voluto incontrare i cittadini per spiegare le loro motivazioni. Si tratta di sostanze cancerogene presenti anche 500 volte i limiti consentiti dalla legge. Una falda acquifera avvelenata che è stata scoperta nel 2003. Chiediamo quindi di sollecitare e sollecitiamo la Procura della Repubblica a verificare che i controlli siano stati fatti nei modi dovuti di verificare e chiediamo inoltre che la bonifica per quale motivo non è stata fatta e insomma chiediamo verità su questi veleni che continuano ad espandersi. Questa falda come detto si trova nella ex zona industriale di Crotone oggetto della prossima bonifica da parte di Sindial un progetto messo in discussione dalla stessa associazione. Non è vero che è stato fatto un buon accordo sulla bonifica delle discariche a mare perché in quella bonifica hanno inserito anche la bonifica di Pertusola che è una finta bonifica lasceranno gran parte dei veleni. Da Crotone per la Cineos 24 Questa è l'unica immagine di Maria Antonia Samà meglio conosciuta come Monachella di San Bruno nata a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio il 2 marzo 1875 restò immobile nel letto per 60 anni in posizione supina e con le ginocchia alzate. Aveva solo 11 anni quando tornando dalla campagna dopo aver bevuto dell'acqua in un acquitrino accusò anomali disturbi non diagnosticati dei quali fu liberata solo dopo un esorcismo alla Certosa di Serra San Bruno nel 1894 ma la sua vita trascorsa in questo letto in questa umile dimora fu lo stesso un calvario che la serva di Dio affrontò con fede diventando riferimento spirituale per il suo paese e non solo fino alla morte avvenuta il 27 maggio 1953. Sempre con le ginocchia ginocchiata sempre nel letto non si è mosso non ha fatto una piaga era una cosa speciale proprio io sono stato lì quindi pregavete per tutti sono molta gente che vanno a fare questo la casettina è sempre aperta sulla base della sua fama di santità la diocesi di Catanzaro Squillace ha avviato nel 2007 l'inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione fino a quando a dicembre scorso è stata dichiarata venerabile la prima in assoluto della diocesi di Catanzaro lei in quella situazione non ha mai detto signore perché mi hai condannata signore che male ho fatto ha detto semplicemente signore e io dico il mio sì lei si imolava e pregava proprio per queste persone e dava tanto conforto e ora speriamo nella beata e poi santa aspettiamo tutti questo evento Rossella Galati per l'AC News 24 Immaginate di trovarvi a vivere in un palazzo in cui le pareti sono crollate costringendo le famiglie a condividere con i vicini l'intimità della propria casa su questa allucinante vicenda si regge il canovaccio dello spettacolo Il cielo in una stanza messo in scena al teatro Morelli di Cosenza dalla compagnia napoletana Punta Corsara nell'ambito della stagione del Mor il progetto prodotto da scena verticale in partenariato con il comune di Cosenza la regione Calabria e il Mibact Il cielo in una stanza rifacendosi alla celebre canzone scritta da Gino Paoli e interpretata da Mina rende bene l'idea del contesto ambientale in cui si muovono i personaggi Le scene curate da Tiziano Fario restituiscono un'immagine efficace di questi alloggi privi di pareti brandelli di quella Napoli antecedente alla metropoli costruita nel secondo dopoguerra Una Napoli genuina e autentica alla quale gli abitanti di questa palazzina semidistrutta rimangono aggrappati Scritto a quattro mani da Armando Pirozzi e da Emanuele Valenti che ne ha curato anche la regia lo spettacolo fa sorridere nonostante a tratti rallenti il ritmo rischiando di perdere l'interesse del pubblico Prossimo appuntamento il 18 febbraio con Ascanio Celestini in Pueblo al Cinema Italia Salvatore Bruno per la Cineus 24 Quando non c'erano gli open day la scuola per i figli come si sceglieva? A caso Magari questo papà sminisce troppo il tempo è andato ma è certo che oggi se una scuola apre le porte si mostra prima chi deve scegliere che carriera fare evita sorprese e futuri sensi di colpa a Palme l'Istituto Superiore Nicola Pizzi nel suo open day ha avuto il sindaco Giuseppe Ranuccio come ospite doppiamente d'eccezione essendo un ex studente ha necessità di far comprendere non solo all'utenza ma tutto il territorio della zona quello che è l'obiettivo di fondo il ragazzo al centro il classico e lo scientifico dentro un edificio recentissimo che ricorda la pancia di una nave a due passi dall'autostrada hanno intanto l'inglese come lingua trasversale ma gli studenti nella kermesse di presentazione per convincere i potenziali colleghi che in questi giorni potrebbero iscriversi hanno mostrato anche la dimestichezza con alambicche e piante mostreremo la polarità dell'acqua ci serviranno due burette e due liquidi in questo caso saranno l'acqua e la benzina a giro finito tra indirizzo sportivo e opzione biomedica una cosa è certa ieri magari contava il caso ma oggi gli adulti contano sempre meno e ognuno si assume le proprie responsabilità ha scelto lo scientifico però ancora non sa l'indirizzo Agostino Pantano per la Cineus 24 tre donne come tante alle prese con gli affari di cuore tre donne che dopo tradimenti avventure e sogni infranti arrivano alla conclusione che si può vivere senza uomini sono Linda Cristina e Barbara interpretate da Vanessa Gravina Paola Quattrini ed Emanuela Grimalda che sul palco del teatro del Grillo di Soverato hanno portato in scena la commedia queste pazze donne lo spettacolo è un po' ironicamente con grande divertimento perché è una commedia tocca dei temi che riguardano proprio la convivenza uomo-donna insomma sono tre storie diverse tre donne che hanno tre storie diverse il mio personaggio Barbara è una donna apparentemente che per molti anni è stata felicemente sposata e proprio la sera la notte di Natale scopre di essere stata tradita e quindi crolla un po' questo suo mito questo suo credere insomma nell'amore nella relazione la commedia del giovane commediografo austriaco Gabriel Barilli ha già avuto un grande successo all'estero riuscendo sempre a divertire e ad accompagnare lo spettatore in un vero e proprio caleidoscopio di emozioni Rossella Galati per la CNews24 Maledetto Var non proprio bellissimo il rapporto tra il supporto tecnologico ed il crotone soprattutto da quando sulla panchina rosso-blu c'è Walter Zenga già un paio di settimane fa il trainer pitagorico ha espresso tutte le sue perplessità sullo strumento video applicato al calcio ieri ha fatto andare su tutte le furie lui e tutta crotone dopo il gol annullato ingiustamente al novantesimo contro il Cagliari sarebbe stata una rete pesantissima in chiave salvezza che avrebbe permesso gli squali di superare in classifica i sardi e dormire sonni più tranquilli ma il Var annulla e non si è ancora capito perché e il match si chiude uno a uno dopo il vantaggio di Trotta su rigore e la pennellata di Cigarini su punizione dalla rabbia nella casa di Pitagora alla felicità del ceravolo di Catanzaro basta e avanza il gol di Infantino alle aquile per stendere il pisceglie dell'ex Zavettieri e tornare a spiegare le ali niente da fare invece rende la formazione di Bruno Trocini domina una partita che però mette in tasca il lecce grazie al timbro di Ciccio Cosenza un cognome che riporta alla mente i cugini rosso-blu di Piero Braglia i lupi frenano la corsa formato tre punti ad Andrea ma non stoppano la striscia di risultati utili di fila il Cosenza va sotto così poi riacciuffa il match sul rigore con Loviso stesso risultato tra Matera e Regina Duganzic firma il vantaggio ma non basta affermare la fame Maranto che con Sparcello porta via dalla terra a De Sassi un punto importante ne strappa via tre da Mugnano e invece la Vibonese che in serie D continua ad inseguire il Troina bravo e fortunato a non arrendersi ad Acireale mentre il rosso-blu annientano il portici con Bubas e Allegretti i siciliani prima vanno sotto e poi ribaltano il risultato mantenendo le distanze e nelle altre sfide Palmese e Cittanovese vincono i due derby di giornata rispettivamente contro Isola Caporizzuto e Rocella Alessio Buonpasso per la Cineus 24 visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie La Cineus 24 edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20 e 30 La Cineus 24 La Calabria che fa notizia